E' stato assolto il cinquantenne accusato di estorsione per aver lasciato sul parabrezza dell'auto della donna dei biglietti in cui chiedeva dei soldi per pagare il suo silenzio e non rivelare al marito la loro relazione extraconiugale. Abbiamo intervistato il legale di fiducia dell'uomo l'avvocato Umberto Gramenzi che ci spiega tutta la vicenda. E' una vicenda processuale che si è conclusa dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno con una sentenza di proscioglimento. L'uomo era accusato di estorsione sostanzialmente, un reato abbastanza grave che prevede pene che partono da cinque anni, tant'è che questa è stata la pena richiesta dal pubblico ministero di udienza. L'accusa era quella di aver estorto delle somme di denaro ad una persona con cui aveva avuto una precedente relazione sentimentale. Questa persona era sposata all'epoca dei fatti, la redazione si è protratta per anni. Secondo l'accusa l'uomo chiedeva dei soldi in cambio del silenzio nei confronti del marito di Costei. Il processo è il risultato che invece che parecchi soldi erano stati dati, l'accusa diceva che la somma è storta e era del pari a circa 20.000 euro. I fatti fino all'anno 2017 si erano verificati per parecchi anni. Però sono stati ritrovati dei bigliettini di richiesta di soldi dove questi bigliettini non contenevano elementi di minaccia. Si arriva degli aiuti che chiedeva e che la donna in un certo senso elargiva con consenso. Nel corso del processo è stata anche ridimensionata in un certo senso la denuncia fatta dinanzi ai carabinieri all'epoca dei fatti e quindi il giudice ha assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato. Grazie. Grazie.